Musica Tensioni questa mattina in piazza Duomo a Trento un gruppo di anarchici ha oscurato il banchetto con cui la Lega Nord raccoglieva firme a Trento contro i contributi agli immigrati. Gli attivisti hanno utilizzato vernice nera su un cartellone della Lega e ha posto uno striscione con la scritta guerra ai padroni non agli immigrati. Immediata la risposta del senatore Sergio Divini e del deputato Maurizio Fugatti. Un gruppo di ragazzini ci impedisce il legare svolgimento della nostra attività politica. La campagna elettorale non può svolgersi in questo modo. Grazie.